In questa occasione di questa mattinata siamo qui per utilizzare un drone che è un aeromobile a pilotaggio remoto ed è regolamentato dalle leggi di ENAC, l'ente nazionale aviazioni civili dove io sono esaminatore ENAC al centro addestramento in Contrato Livola che sarebbe l'aeroclub di Benevento. Questa attrezzatura è una tecnologia, è una tecnologia che aiuta al corpo della polizia locale di ottimizzare quelle che sono oltre le ricerche di un incidente ma anche di ottimizzare i tempi di consegna del documento dell'incidente del sinistro anche sull'aspetto infortunistico. Viene utilizzata questa tecnologia in ambito per quanto riguarda ricerche di persone disperse, discariche, edilizia abusiva, insomma tante applicazioni. Questa mattina stiamo appunto facendo una simulazione di un incidente stradale dove ci sono i piloti formati dal centro addestramento di Benevento dove stanno appunto utilizzando questa tecnologia.